Ritorna domenica l'appuntamento con la nona edizione della Resegna Teatro con mamma e papà su iniziativa della Manzarda Teatro dell'Orco. L'appuntamento di domenica è dedicato ad Ansel e Gretel, uno spettacolo musicale con attori e popazzi. Appuntamento alle ore 11 al Teatro Comunale di Caserta. Sì, siamo molto contenti che si rinnovi anche quest'anno per il nono anno quest'appuntamento per le famiglie al Teatro Comunale di Caserta. È una scommessa vinta perché quando abbiamo cominciato nove anni fa ci auspicavamo una risposta di 100-150 persone, invece riusciamo ad avere picchi anche di 400 presenze ogni domenica. Talvolta abbiamo dovuto istituire la seconda replica per non lasciare fuori pubblico e speriamo che anche quest'anno il successo si rinnovi. Ma ne siamo abbastanza convinti perché la proposta è interessante, gli spettacoli sono senz'altro per argomento rivolti ai bambini, ma affascinano anche il pubblico di adulti. Non a caso la dicitura a teatro con mamma e papà, perché crediamo fortemente nel teatro come un momento di incontro per la città, un momento di festa collettiva dove ci si possa incontrare per trascorrere un'ora in maniera diversa. Anticipando anche il prossimo appuntamento ci sarà un ospite d'eccezione. Sì, come dicevi tu il primo appuntamento è con Ansel e Gretel che è comunque un gradito ritorno, quello della compagnia Bruzzo Tucur che lavora in maniera molto suggestiva con pupazzi e attori. Ma l'appuntamento del 13 novembre sicuramente avrà gran clamore perché abbiamo ottenuto la presenza di Oreste Castagna che è l'idiatore di Dodò dell'Albero Azzurro che ci porta questo spettacolo molto magico, molto intrigante che è carta storie. E naturalmente non mancherà il saluto di Dodò che è un personaggio sicuramente noto ai bambini di oggi ma che ha affascinato più generazioni. Sentiamo anche mamme entusiaste dell'arrivo di Dodò a teatro, quindi ci aspettiamo un grande successo per questo appuntamento del 13 novembre. Volevo tra l'altro aggiungere che invece nell'appuntamento del primo spettacolo avremo anche una sorpresa per i bambini convenuti perché la pasticceria Pieretti offrirà, visto che si tratta di Ansel e Gretel e di Dolciumi, offrirà a tutti un piccolo muffin con la glassa e i confettini proprio per revocare la casetta di marzapane che i due bambini mangiucchiano alla strega cattiva. Da 15 poi prenderanno in via un'altra serie di appuntamenti? Sì, il pacchetto del teatro comunale comprende sia la rassegna a teatro con mamma e papà che è libera e rivolta alle famiglie che la rassegna di teatro per le scuole che invece è giunta alla sua decima edizione e che comprende sia il cartellone per la scuola primaria che è il teatro ingarbugliato che per quella secondaria di primo e secondo grado che è il silenzio delle sirene, nonché gli spettacoli in lingua. Il primo spettacolo appunto il 15 novembre per la scuola secondaria Viva un re della Marina Commedia per i 150 anni dell'Unità d'Italia.